I farmaci ancora una volta per comprendere un pochino i farmaci vediamo quello che accade sembra un'immagine un pochino complessa sembra per addetti ai lavori però è facile comprendere vedete a sinistra il virus entra c'è quel recettore di cui parlava prima il collega AC2 si attacca a questa chiave di entrata entra dentro si replica esce e quando è uscito può essere attaccato all'estero immunitario può rientrare in altre cellule quindi continuare l'infiammazione